ascoltare alcuni colleghi dell'opposizione che purtroppo oggi rimarcano la situazione grave in cui ci troviamo non tenendo presente che le responsabilità sono evidenti e voglio specificare soprattutto per l'assessore che oggi è qui presente con noi alcune situazioni che ho purtroppo testimoniato con mano nella mia precedente esperienza come consigliere municipale questa città è stata totalmente devastata da alcuni interessi personali e soprattutto da una politica scellerata che non ha capito quello che stava succedendo succedendo nella città addirittura a roccacencia che tanti oggi prendono esempio per strumentalizzare la nostra azione politica si voleva installare un biodigestore che avrebbe trattato l'umido di tutta roma a 50 metri dalle case bruciando un gas che poi chiaramente non può essere filtrato al cento per cento e che avrebbe forse e dico forse dato il colpo di grazia a una realtà già tristemente contaminata e tristemente nota da documenti regionali per l'incidenza di tumore nella zona quindi io veramente colgo l'occasione per ringraziare per la sua relazione così ampia così dettagliata l'assessore e anche per far presente che le isole ecologiche nella passata consigliatura per tre anni nonostante ci fossero i fondi a disposizione non sono state neanche individuate le aree dove posizionarle quindi questo lavoro poteva iniziare benissimo tre anni fa perché non è stato fatto perché ci ritroviamo in questo in questa condizione quindi questo consiglio straordinario è veramente un'occasione per denunciare quello che è successo e ascoltare le parole dell'assessore che ha una competenza così incisiva sul tema è interessante perché alcuni membri dell'opposizione fanno questa piazzata stanno 20 minuti e se ne vanno perché non sono presenti per ascoltare magari quella che è la replica alle loro osservazioni io ho detto alcuni qualcuno c'è qualcuno c'è per fortuna quindi diamo atto diamo atto dello sforzo ciclopico che sta facendo questa questa amministrazione grazie a quella che è la ma non lo chiamo neanche di sa io la chiamo proprio con la parola esatta mangiatoia con la quale alcune persone hanno tenuto in ostaggio la città per anni ok rischiando perfino di essere sanzionati dalla comunità europea non mi voglio delungare ma voglio solo riportare un po di sana coerenza anzi do atto anche a qualche membro dell'opposizione che ha riconosciuto questa questa situazione e lo ringrazio per l'onestà intellettuale con la quale l'ha sottolineata comunque spero che il nostro lavoro porti a risultati concreti il più possibile e andiamo avanti come dice qualcuno più illuminato di noi barra dritta davanti tutta grazie